O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. L'eterno riposo dona a loro. O Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Principe glorioso. San Michele Arcangelo. Per la tua serafica carità. Soccorri tutte le anime dei nostri parenti. Che si purificano nelle pene del purgatorio. Sii loro consolatore. E implora che siano ammesse quanto prima in cielo. Allodare in Eterno il Signore. Padre nostro che sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. L'eterno riposo dona a loro. O Signore. E splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Gloriosissimo Principe del Cielo. San Michele Arcangelo. Fedelissimo protettore dei nostri defunti. Ottieni che i nostri parenti siano liberarti. Presto dalle pene del purgatorio. Sia per loro padre. Amico. Consolatore. Conforto. Per la tua serafica carità. Ottieni che possano venire presto con te in cielo. Allodare per sempre Dio. Padre nostro che sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. L'eterno riposo dona a loro. O Signore. E splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Principe potentissimo. Amabile San Michele. Nostro specialissimo protettore. Ti veneriamo. Ti lodiamo e ti benediciamo. Per la grande potenza che Dio ti ha concesso. E ti preghiamo di ottenerci la grazia. Che le anime dei nostri parenti. Che soffrono in purgatorio. Siano ammessi presto in cielo. E godere per sempre con te il Signore. Padre nostro che sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. L'eterno riposo dona a loro. O Signore. Esplenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. O Principe degli Angeli. O Glorioso San Michele. Ricorriamo alla tua grande carità per noi miseri peccatori. E ti imploriamo di liberare le anime dei nostri parenti. Che gemono nel purgatorio. Prega per loro. Soccorrili. Perché siano ammessi presto in cielo. a lodare con tutti i beati il Padre. Il Figlio. E lo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. L'eterno riposo dona a loro. O Signore. Esplenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. O grande Dio. Creatore e Redentore di tutti gli uomini. concedi. Te ne preghiamo. La remissione di tutte le pene alle anime del purgatorio. Perché ottengano la grazia. Di essere ammesse alla gloria del cielo. Che ardentemente desiderano per lodarti. E ringraziarti. E amarti per tutta l'eternità con tutti i loro cari. Amen. O Dio potentissimo. Misericordia infinita. A cui ricorre con fiducia ogni peccatore pentito. Sicuro di trovare perdono. De. Per i meriti della tua dolorosissima passione e morte. Esaudisci le preghiere che in questo giorno. Ti porgiamo in suffragio di tutte le anime del purgatorio. Affinché, possano quanto prima essere liberate dalle loro pene. E godere della vita eterna. O Maria Santissima Madre del Salvatore. Che consoli tutti gli afflitti. E sei regina di tutti i santi. Per la tua potente intercessione. Ottieni che le anime di tutti i fedeli defunti. Riposino in pace con tutti gli angeli. E i santi del cielo. Amen.